Spunti di vista, torniamo a parlare di istruzione professionale intesa come risorsa per il nostro territorio e ne parliamo insieme con il professore Roberto Santi, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Professionale Arezzo. Grazie professore per essere qui con noi a Spunti di vista. Abbiamo detto che l'istruzione professionale è una risorsa in fondo per il territorio, ci sono diversi indirizzi, però tutti hanno questo filo conduttore. Possibilità che danno i titoli di studio ottenuti a chi li offre, a chi li consegue, di trovare un lavoro? Certamente, chiunque si iscrive nell'istituto che presiedo, alla fine del percorso scolastico trova certamente lavoro, trova lavoro sia negli indirizzi tecnici sia in quelli professionali, in particolare nell'oreficeria diciamo così, sono molto richiesti i nostri ragazzi. Noi quest'anno abbiamo introdotto il quadriennale, avremo tre classi in quadriennale e quindi è una cosa che io ritengo di grande successo. Fra l'altro io devo ringraziare pubblicamente sempre i miei docenti che al collegio docente hanno espresso all'unanimità un parere positivo e anche il Consiglio d'Istituto che ha anch'esso all'unanimità espresso un parere positivo. Noi abbiamo aderito con grande entusiasmo alla riforma, alla sperimentazione, la cosetta filiera del 4 più 2 voluta dall'attuale Ministro e quindi io penso che insomma c'è solo da essere molto soddisfatti di questa scelta. Ecco queste sono immagini che si riferiscono al periodo dell'emergenza pandemica, la vostra attività non ne ha risentito in fondo perché voi anche durante quel periodo siete andati avanti regolarmente pur che con le ovvie limitazioni che possono essere giustate. Sì, come tutti insomma, come tutti. Certo, ma comunque sia come vedete anche dalle immagini, qui è Mauro Benvenuto che è presidente attuale della consulta Orafa, lì prima c'era la professoressa Martina Scala. Noi soprattutto nel mondo dell'orificeria ormai siamo un punto di riferimento importantissimo, ecco i nostri laboratori Orafi. Questi laboratori sono già in gran parte rinnovati, abbiamo anche macchinari 4.0 come si dice, cioè legati all'automazione industriale e all'ingresso nelle aziende Orafi delle nuove tecnologie. Sono arrivati per esempio due saldatori laser e arriva oggi o domani una macchina per la rodiatura. Insomma, siamo all'avanguardia. Siete davvero all'avanguardia. Abbiamo detto che l'indirizzo Orafo è quello più conosciuto, però non esiste soltanto l'indirizzo Orafo perché altri, per esempio l'indirizzo e il settore logistica e trasporti, nel corso degli ultimi anni ha assunto anche un'importanza sempre maggiore. Tutte le aziende hanno bisogno della logistica, hanno bisogno di muovere merci o persone nei magazzini o nelle linee urbane, extraurbane per esempio, delle linee degli autobus e così via. Quindi la logistica è fondamentale, ma ancora più importante è il fatto che nel settore del tecnico e dei trasporti noi abbiamo inaugurato laboratori anche qui di grande importanza e di grande interesse per la formazione e per costruzione. Abbiamo tre simulatori di volo, l'aviazione civile americana statunitense ci ha regalato un aereo che era caduto, che era atterrato in malo modo all'aeroporto di Ampugnano in quel di Siena e quindi noi abbiamo anche smontato le attrezzature di bordo di questo aereo. Quindi abbiamo un lavoratorio sia di costruzione del mezzo aereo, sia di conduzione del mezzo aereo, cioè per piloti veramente all'avanguardia. Il vostro istituto è quindi una eccellenza, soprattutto per l'offerta anche formativa che esso offre. Ci sono anche altri corsi, per esempio lo stesso corso grafico, per coloro che intendono avvicinarsi al mondo della grafica, delle stesse creazioni anche televisive, mi sembra. Sì, poi voi ospitate gentilmente sempre i nostri ragazzi in stage come altre televisioni locali, ma anche lì noi ci avvaliamo ormai di un laboratorio con il pacchetto Adobe, praticamente che serve per il design, per la costruzione di video, di cortometraggi, per la modifica delle immagini, per creare riviste dedicate alle aziende e la gestione dei siti aziendali. Di fatto anche lì noi abbiamo introdotto nuove tecnologie e soprattutto attrezzature in cui i ragazzi si esercitano per realizzare il loro sogno che è quello di fare il grafico. Ora il mondo della grafica è molto vasto, va dai video alle immagini naturalmente, va dai plan ai spot per le aziende, quindi è chiaro che lì formiamo personalità e professioni che spesso sono diverse l'una dall'altra. Ecco professore, abbiamo detto di questi indirizzi, però è evidente che ci sono alcuni indirizzi che poi rimangono prioritari, quelli più importanti, quello orafo, ne abbiamo parlato e fra l'altro a proposito dell'indirizzo orafo, sul quale forse merita ulteriormente porre la nostra attenzione, va detto che c'è stato anche il contributo di alcune aziende le quali addirittura sostengono, sovvenzionano l'acquisto dei libri di testo per gli studenti e questa dimostrazione di quanto ormai il vostro istituto sia parte integrante poi anche di questa attività. Del distretto orafaretino, sì, ci sono imprenditori che generosamente comprano i libri di testo a tutti i ragazzi che si iscrivono al primo anno. Inoltre vi sono altri imprenditori e altre associazioni di categoria che hanno istituito borse di studio. Quest'anno è basta, noi variamo quasi 16 mila euro solo di borse di studio legate all'orificeria in gran parte ed anche al trasporto e logistica e alla meccanica. Non vorrei dimenticare un altro indirizzo che da noi ormai è diventato oggetto di ammirazione per quanto riguarda quantomeno le attività laboratoriali e le strumentazioni a disposizione che è quello odonto tecnico, che è stato il primo a essere varato ma non è l'ultimo nei nostri pensieri. Esatto e quindi c'è la possibilità per chi ottiene quel titolo di studio di intraprendere un'attività fra l'altro anche molto delicata perché è necessario avere particolari accortezze e abilità professionali per poterla portare avanti. Sono molti coloro che si iscrivono a questo indirizzo? Allora non sono moltissimi, quest'anno sono stati un po' di più una quindicina. Di fatto è un indirizzo d'elite, un indirizzo che è per coloro i quali si vogliono inserire nel mondo dell'odonto tecnico e dell'ortodonzia e naturalmente, questo è un professore, il nostro Stefano Petreni e come vedete sullo sfondo vi sono i nostri laboratori, è evidente che i ragazzi escono molto ben preparati e riescono poi a inserirsi con facilità nei laboratori di odonto tecnica. Ora è un corso dove si iscrivono anche ragazzi e ragazze che non sono solo aretini, provengono anche da province limitrofe perché i percorsi di odonto tecnico sono rarissimi. In Toscana credo siano solo tre, uno è il nostro, uno a Firenze e uno là nella costa. Quindi insomma anche di questo non possiamo che essere orgogliosi. Ecco professore stiamo osservando queste immagini fra l'altro molto interessanti, c'è una parte pratica e anche una parte teorica di studio con l'ausilio anche di macchinari anche molto sofisticati, molto all'avanguardia, perché voi fra l'altro avete avuto anche la possibilità di avere a disposizione strumenti da alcune aziende, strumenti obsoleti, tra virgolette, tra virgolette, non diciamo non di ultima generazione, a disposizione di alcune aziende del settore che li hanno donati alla vostra attività. Sì, sono due aziende dell'Emilia Romagna, una di Bologna, l'Alfa Dent e un'altra di Forlì, che ci hanno donato i loro macchinari. Non di ultima generazione, ecco diciamo. Non di ultima generazione, ma per un ragazzo che studia sono veramente di nuova generazione, in quanto sono macchinari che magari sono stati superati da altri di recentissima generazione, ma sono comunque importanti e utilissimi per la didattica, fondamentali direi. Ecco, il futuro, professore, dell'Istituto Tecnico Professionale di Arezzo, come lo vede alla luce anche delle novità che interessano il mercato del lavoro? Io credo che il Tecnico Professionale abbia un bel futuro, perché oltretutto con l'introduzione, ripeto, di quello che abbiamo detto all'inizio, del 4 più 2, cioè di una possibilità di prendersi il diploma dopo 4 anni e di poi proseguire eventualmente in un percorso ITS, quindi di estrema specializzazione professionale, perché il più 2 significa ITS, non significa generalismo dell'istruzione, significa studiare esclusivamente in quel settore dove a me piace domani potermi inserire nel lavoro e in particolar modo l'orificeria, ma anche energia ambiente, eccetera. Noi possiamo offrire ai ragazzi, al mercato del lavoro, delle grandi professionalità di nuova generazione, di nuova concezione e soprattutto che creino le possibilità affinché i nostri ragazzi vengano anche ben pagati nel momento in cui entrano nel mondo del lavoro, non siano quei contratti temporanei e diciamo così a basso costo che invece purtroppo spesso non invogliano i giovani a entrare nel mercato del lavoro. Grazie, grazie al professore Roberto Santi, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Professionale Arezzo per essere stato con noi a spunti di vista e abbiamo parlato dell'offerta formativa del suo istituto, in verità molto variegata. La linea può tornare alla regia? Grazie.